Piazza delle Rimembranze a Bonpietro ospiterà domani, mercoledì 24 agosto, i camper della prevenzione dell'ASP di Palermo, impegnata dalle 9.30 alle 16.30 nell'open day itinerante. Gli utenti di tutto il comprensorio potranno approfittare dell'iniziativa dell'azienda sanitaria provinciale del capoluogo per aderire ai programmi di screening o per effettuare le vaccinazioni. In collaborazione con la locale amministrazione comunale l'ASP assicurerà una lunga lista di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto, mammografia per donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e il PAP test o HPV test 25-64 anni per lo screening del cervico carcinoma. Sarà anche distribuito il soft test a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening del tumore del colon retto. L'ASP allestirà inoltre un punto vaccinale occasionale per la somministrazione anti-covid, anche domiciliare, di prima, seconda o dosi booster. Inserite nel nuovo programma anche le vaccinazioni tradizionali, obbligatorie o raccomandate e cioè anti-HPV, anti-meningococco B, anti-difterite, tetano, pertosse A, polio, antimorbillo, parotite, rosolie e varicella. Attivo infine uno sportello amministrativo per andare incontro a ogni esigenza dell'utenza. Intanto, ieri a chiusa Sclafani sono state complessivamente 102 le prestazioni assicurate dagli operatori dell'open day itinerante, di cui 22 mammografie, 4 pap test e 16 HPV test, 9 soft test distribuiti, 17 vaccinazioni anti-covid, di cui 12 domiciliari, 10 vaccinazioni tradizionali e 24 prestazioni erogate dallo sportello amministrativo.